Amén! Gesù è il Signore! Alleluia! Ma sì, mia amicia, ascoltami bene! Vi è un solo Mediatore tra Dio e gli uomini! Gesù Cristo! Alleluia! Alleluia! Gesù salva! Tu hai bisogno di Gesù! Non vivere nell'indifferenza di questa vita perché ci sarà una condanna eterna se non ti davvero! Dio ti ama! Dio ama gli uomini! Dio l'ha già creato per distruggerci ma per amore ci ha creato! Devi solo tornare a lui! Devi solo invogliare il suo nome! Semplicemente Leggi il Vangelo, leggi la Bibbia Stiamo come i tempi di Noè Disse Gesù, la Bibbia lo dice A che giorno l'uomo si guadagna tutto il mondo E poi perde la sua anima Alleluia! Alleluia! Mentre si muoveva la gente non si ravvita Salva il corpo! Che ne sarà la tua vita un giorno senza Gesù Cristo? Illumina i cuori, Signore! Signore, la salita Gesù mi ama! Leggete il Vangelo! Un giorno questa vita finirà! E' tutto vanità! Nudi e nudi ce ne andremo alla polvere! E l'anima tornerà a Dio quella data!